Però hai un consiglio da darmi? Ma non sei maniscalco! Eh, non ti preoccupare, c'ho Wind 5. Non hai superato l'esame di Stato? Mischino, raccontami! Non ti preoccupare, c'ho Wind 5. Con Wind 5 parli con tutti a 5 centesimi al minuto. E ti rimborsiamo quello che spendi nel 2007. Allora chiudo? Solo da Wind.